Per portare il Vangelo nelle grandi città bisogna cambiare la nostra mentalità pastorale, avendo il coraggio di fare una pastorale evangelizzatrice, audace e senza timori, perché chi ci vive aspetta da noi e ne ha bisogno per la propria vita la buona notizia che è Gesù. L'ha detto Papa Francesco ai Cardinali e Vescovi che hanno partecipato alla seconda fase del Congresso Internazionale di Pastorale per le Grandi Città tenuta a Barcellona. Parlando della sua esperienza personale come arcivesco di Buenos Aires, Papa Bergoglio ha sottolineato che è finito il tempo della cristianità, in cui la Chiesa era l'unico referente della cultura. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, nei primi, nei più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, ma non di una pastorale relativista, no, questo no. Che per voler essere presente nella cucina culturale perde l'orizzonte evangelico, lasciando l'uomo affidato a se stesso ed emancipato dalla mano di Dio. No, questo no. Questa è la strada relativista, la più comoda. Questo non si potrebbe chiamare pastorale. Chi fa così non ha vero interesse per l'uomo, ma lo lascia in balia di due pericoli ugualmente gravi. Gli nascondono Gesù e la verità sull'uomo stesso. Nascondere Gesù e la verità sull'uomo sono pericoli gravi. Strada che porta l'uomo alla solitudine della morte. Bisogna quindi avviare, ha proseguito il Papa, un dialogo pastorale con la multiculturalità e valorizzare la religiosità del popolo. La sfida è duplice. Essere ospitali verso i poveri e i migranti, la città in genere non lo è, e valorizzare la loro fede. Quindi Papa Francesco ha offerto due proposte pastorali. Uscire per incontrare Dio che abita nelle città e nei poveri e facilitare l'incontro con il Signore, perché ci riesce più facile far crescere la fede che aiutarla a nascere, imparando a risvegliare nei nostri interlocutori la curiosità e l'interesse per Gesù Cristo. E poi la testimonianza concreta di misericordia e tenerezza che cerca di essere presente nelle periferie esistenziali e povere e agisce direttamente sugli immaginari sociali, generando orientamento e senso per la vita della città. Così come Cristiani, ha concluso il Papa, contribuiamo a costruire una città nella giustizia, nella solidarietà e nella pace. Grazie. Grazie. Grazie.